ma tu passaggi non lo fai 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 penso tutti sono in quasi un secondo, tutto cento, è così, i primi venti ogni volta sono in quasi un decimo, due decimi, è molto molto forte, non difficile, ma molto forte, molto competitivo, è questa karting, una buona scuola. Sono venuto come al solito a seguire il mio figlio, stiamo facendo questo campionato, è il primo anno, è una pista nuova per noi, siamo arrivati all'edice della settimana, abbiamo visto quel bel circuito e stiamo lavorando il più possibile per essere davanti.